Tesoro, assaggia questa fragola. Mmm, buona! Sa anche un po' di kiwi! Dì la verità, te l'aspettavi così! Hai ragione! È come il Mutuo Casa BCC Pordenonese. Ti dà più di quello che ti aspetti. Visita la pagina Mutuo e Casa nel sito www.bccpn.it e scopri la clamorosa offerta. Corri in filiale BCC Pordenonese. L'offerta è limitata.